E salve a tutti ragazzi, in questo nuovissimo video, oggi farò la reaction a caldo perché è proprio oggi uscito il primo teaser trailer, attenzione ragazzi, teaser non è neanche un trailer, quindi è solo un primissimo sguardo al film di Minecraft, avevo già fatto un reel, sì uno short, vabbè, un contenuto corto sull'attore che interpretava Steve, non so se lo ricordate, nel caso ve lo lascio qui sopra. E niente, oggi andremo a reagire a questo teaser, che in realtà l'ho già visto, ma voglio commentarlo insieme a voi. Guardate, questa larga tipo portale. Ok. Stile Minecraftoso, che allora ho guardato così, ho guardato così con blocchi, cioè stile di blocchi visti da lontano. Non sembra neanche male, cioè sembra fatto anche bene, però vabbè, andiamo avanti. Ok, vedete, anche qua, cioè, i paesaggi secondo me sono fatti molto bene in realtà, con questa grafica, vengono bene. Poi il problema sarà un'altra cosa, secondo me. Vediamo dei ragazzi che sembrano entrati da quel portale. Adesso, lo si dovrebbe vedere, infatti, sono entrati da quel portale, probabilmente vengono dalla realtà. Tra l'altro, Tori che ho già visto, Gesu Momoa vestito da donna. Ok. Tra l'altro, Piglin, nell'Overworld, dovrebbero diventare Piglin zombie. Magari una roba tipo la Minecraft Legends, secondo me potrebbero riprendere quello, eh. Che lì, se non sbaglio, i cattivi erano proprio i Piglin. Però, dal punto di vista di Minecraft, dovrebbero diventare Piglin zombie. Però, possono sempre cambiare queste robe qua, eh. Per carità. Sembra ad ora l'esploratrice, comunque. Il nostro Jack Black è Steve, come avevo già detto. Sì, comunque, questo dettaglio dei Piglin è un po' un'incongruenza. Però, vabbè. Aprile 4. Ripeto, è solo un trailer, eh. Un teaser, scusate. Neanche un trailer, teaser. Quindi, da qui a un trailer, le cose possono cambiare anche di molto. Sinceramente. Dalle prime foto del set, tra l'altro, si vedeva che... Era uno stile cubettoso. Cioè, si vedeva che poteva essere una roba così... Per dire. È una computer grafica un po' strana. Può piacere, non può piacere. A me non convince. Sicuramente la storia sarà in stile Jumanji. Secondo me. Perché si vedono i personaggi all'inizio che entrano qua nel mondo, no? Che vengono dalla vita reale. Quindi, è possibile. Ma... Il mio giudizio sarà rimandato al film vero e proprio o al prossimo trailer. O il vero e proprio trailer. Che secondo me ci sarà... A inizio 2025. Non lo so. È anche vero che magari al Minecraft potrebbero tirar fuori qualcos'altro. Un secondo teaser. Non lo so. O il primo trailer. Niente ragazzi, detto ciò, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi raccomando. Senza nessun problema. Sono tornato forse ufficialmente. Sicuramente sto editando un video che uscirà probabilmente la settimana prossima. Spero. E niente. Un'altra comunicazione di servizio è che a quanto pare mi hanno permabannato da Twitch. Per X ragione che vorrei sapere ma non so. E vabbè. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like. Per supportare a più non posso. Mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi.